Che tiene in mano una paletta Quanta gente è costretta a curvarsi su una breve levosina mentre un diciottenne che tiene in mano una paletta ha guadagnato in sette mesi milioni di dollari Al Madison Square Garden di New York il nostro confuso corpo sociale spasima per il giovane tennista che ha vinto il master Non è facile trovare un guadagno che sia più paradossale del suo Ma nessuno smorza questi schiaffi alla ragione che rimane ardentemente illogica Commento Infatti nella condizione umana tutti apparteniamo alla povera ragione dell'uomo Perché povera? Perché si affida ancora alla logica della mente e non del sentire